POTENTE A PALA RAGAZZI Per prima di iniziare volevo un attimo parlarvi di un paio di cose Innanzitutto, se non sentite una voce squillante, squilpersiane come al solito Ok, no, basta È perché, allora, innanzitutto ho un po' di febbre Ho la voce in azuccaro, quindi un po' nasale E poi è successa una cosa assurda Io praticamente, adesso ve lo dico chiaro e tondo Come voi sapete ho la partner Una cosa che è successa è che praticamente io avevo fatto i conti appunto Dei soldi che mi sarebbero arrivati per la partner E avevo preso queste PSN card appunto per fare i vari pack opening Cos'è successo? Ho scoperto che ho mandato tutto all'aria Perché non avevo visto una cosa che avevano messo loro nell'email Che dicevano una cosa da fare Quando si caricava il video, ovviamente, da bello e buon potente Non ho fatte Quindi, boh, è andato un po' tutto a, diciamo così, a puttane Chiamiamolo anche così, è andato un po' tutto a PES E... no, vabbè, siamo seri E quindi sono costretto un attimo ad iniziare tutto a capo Comunque, appunto, ho deciso di farlo oggi il pack opening Prima... sarà il mio ultimo prima di Natale Perché magari a Natale mi arriverà una carta così E quindi magari ce ne sarà un'altra Ed eccoci qua subito a partire Perché l'ho fatto oggi? Perché c'è la possibilità di trovare messi blu Quindi abbastanza potente E appala e partiamo subito con il primo pacchetto, via Non guardiamo, non guardiamolo, non guardiamo Come sapete poi, via, boom Oh my god, guys Chi ho trovato? Bayal Sal E dato che molti di voi hanno detto Ho detto che non dovevo, tipo, sempre scartare tutto Ho liberato un attimo la prima la pila a scambi Quindi te ti mando nella pila a scambi Te ti mando nella pila a scambi Il resto lo conservo nel club E quelli che non mi ci stanno Ti elimino, ok Cioè, ho fatto tutto, vedete, è una cosa potente Poi, dato che è il clima pack opening Ci saranno tante mie freddure, se vi ricordavate Se vi ricordate, però Boh, uno di voi, un iscritto Mi ha detto, mi ha consigliato meglio Di aprire i pacchetti Che hanno su Oxlade Chamberlain Quindi adesso, se non ci si mette troppo Io troverò Oxlade Chamberlain Eccolo qua E andiamo a provare ad aprirlo, via Boom Non guardiamo, non guardiamo Non guardiamo Non guardiamo E' partito? Eh, sì No, dai Facciamo i seri, ragazzi, però Adesso parlo direttamente al mio iscritto Mi sa che non funziona sto trucco L'ho fatto due volte Non ho ancora trovato un giocatore horror 5.000 crediti, ragazzi Però continuo ad essere convinto Che per me non ci sono trucchi In sé è questione di fortuna Dato che io sono stato appena trollato Da, cioè, mi sono trollato da solo Sarei anche contento di trovare magari Qualche cosa bella Quindi, se di opacchetto mi potresti fare Eeeh Se di opacchetto mi potresti fare qualcosa Magari mi aiuteresti un attimo a trovare delle cose Mi faresti molto piacere Poi vi volevo chiedere anche un'altra cosa Dato che, eh, adesso non sapevo che squadra farmi Sto facendo proprio schifo ultimamente A FIFA Perché appunto ero abituato a giocare a Call of Duty Ora voglio Benzema o Art Comunque Eeeh Consigliatemi una squadra Magari adesso se troverò qualcuno di buono Speriamo Eeeh Vediamo Vediamo Schiacciamo un po' tutti i tasti Non guardiamo Vediamo No Dai, facciami serio Elm, elmetto Ok Eeeh Io pensavo di aver trovato Mamma mia Ho pensato di aver trovato Ibra Mi stavo stragasando Però no No ragazzi Mi dispiace Ma questo è no Conti 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 Numeri Operazioni Basta Eeeh Quindi Abbiamo già aperti un po' Dato che non voglio farlo durare tantissimo questo video Perché Vorrei mettere Introdurre Far mettere i commenti della settimana Che sono i comments of the week Così Dato che avevo detto che vi avrei messo ogni settimana Poi non li ho messi per una settimana e mezza Volevo un attimo Vorrei iniziare Ora Vediamo No 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 Sì mi ispira Mi ispira a pala Questo non lo guardo Vediamo Pitroipa No porca troia No veramente ragazzi Io non Madonna mia Sono uno sfiguo Chiedo tanto Un Messi da 96 Non lo so Non lo so Non lo sa Beh Ok Allora Ciao in serie un secondo Ora c'è il bug Che praticamente se voi uscite Adesso Se voi provate a fare questo bug E' veramente potente Perché Dovete fare pacchetti oro E aprite il primo Boom Messi per trovare Messi in forma Poi schiacciate tre volte Due volte su no Alla terza fate sì Chiudete gli occhi Sentite il rumorino E guardate E guardate Fernandez Oh my god Ho trovato Fernandez ragazzi Però niente di che Adesso Mi accingo Si dice così Montella Guidolin Due allenatori italiani Tre allenatori Mi accingerei Ad aprire gli ultimi Quelli che saranno Gli ultimi pacchetti Perché Perché oggi è giorno sfigato Oggi è giorno Vai Porco l'ama Porco l'ama Porco l'ama Porco l'ama Porco l'ama Oh No Scusate un secondo Ma su tre Su tre giocatori Trovo due argento E uno che ha 50 di velocità Cioè ora Voi dite Sì giusto Voi dite Voi dite Eh sì Ma vaffangulash Cioè Bobo Appala Non ho trovato niente Niente di buono Proviamo In questo Boom Boom No Ragazzi Il pack opening Non sono la mia Non mi viene la parola No veramente A parte che sto malissimo Non so quanta febbre ci abbia Pensate pure che bravo Che sono stato Che faccio pure I commentary con la febbre Però stiamo scherzando Qua viene Di bestia Da scartare Tutto nel club Allora Accingiamoci Accingiamoci Adesso Oggi Sono pieno di termini culturali Ad aprire L'ultimo pacchetto Dove svolgerò Messo in forma Perché me lo sento Adesso Guardate Guardate Non guardiamo Boom Oh Ebbene si ragazzi Stavo sognando Oh my god Messi Ok Ancora Conti Non so C'è stata Cosa contro i conti Poi trovo John Johnny Crick Poi trovo Bonnie E' bono E poi trovo Jefferson Jefferson E poi sto conti No Ti scarto Io andrei ad aprire L'ultimo pacchetto Che E' uno d'argento Da 75 Però Non mi piace Questo giocatore Voglio tipo Marchisio Marchino Art Art Via Guardiamo Adesso guardo Perché tanto Più sfortunato di così È difficile essere Ma chi sei tu Ma chi sei Ma chi sei Leho Jho Eho Ok basta Cortez Orzolen Cioè Io trovo pure i doppioni Ah non è un doppione Ok Questi consiglio nel club E direi di chiudere il commentary Che è stato Molto potente Perché ho trovato Messi in forma E Detto questo ragazzi Vi saluto Ci sento al prossimo video Bolla No words I've done Everything I've made Flip full circle Now I go a different way And I took my pain And I threw it away And now you always see Benny with a smile On his face Attitude awesome Mindset positive Went downhill But now I'm doing the opposite Now remember I was choking under pressure Now everything I do I'ma do one better And way back It was nothing but a dream Something that I couldn't reach Don't try You'll be let down No way Care less Would you say Just have a little faith One day You'll be so proud All you gotta do is believe Even if it means Leaving where you came to be